Benvenuti a questa seconda lezione sull'architettura web. Avevamo interrotto il discorso parlando di quelli che sono gli elementi fondamentali di un'architettura web basilare, come quella che vediamo illustrata qua, ovvero il client, tipicamente un browser, la connessione internet, il server web, l'application server e il database. In questa struttura è importante ricordare un limite importante del protocollo HTTP, ovvero il fatto di non avere uno stato. Ogni nuova coppia richiesta risposta, quindi ogni nuova transazione HTTP, è indipendente da tutte le altre. Quindi, quando voglio avere un'interazione prolungata con un'applicazione web, è necessario in qualche modo andare a collegare assieme diverse transazioni all'interno di quello che si chiama una sessione. In questo tipo di struttura abbiamo come elementi fondamentali i cookie che permettono di gestire le sessioni, una serie di elementi che permettono di avere un'interfaccia grafica interattiva e soprattutto la parte di base di dati, che è data da una serie di standard che permettono di andare a interrogare le basi di dati per ottenere delle informazioni. Iniziamo a capire che cos'è una sessione. Allora, una sessione è un insieme di transazioni HTTP che sono eseguite dallo stesso utente. Sostanzialmente il concetto di sessione ci permette di andare a avere un'interazione continua, si dice stateful, con un'applicazione web, pur utilizzando un protocollo come HTTP che è stateless, ovvero perde la memoria di cosa è avvenuto prima. Il meccanismo principale per andare a gestire le sessioni sostanzialmente è quello di utilizzare i cookie. Che cosa sono i cookie? Sostanzialmente sono delle coppie nome e valore che vengono inviate dal server web, normalmente alla prima connessione di un client, e che vengono poi memorizzate dal browser che mantiene l'associazione tra l'host, quindi il server che ha mandato il cookie, e il cookie stesso, inteso come coppia nome e valore. E ogni volta che un browser fa una richiesta HTTP a un host, manda tutti i cookie che l'host gli aveva mandato precedentemente. In questo modo possiamo andare ad avere dei cookie che permettono di mantenere la sessione. Come funziona il meccanismo? La prima volta che un server riceve una richiesta HTTP, guarda se c'è un cookie di sessione. Se non ce n'è nessuno, allora cosa fa? Genera un nuovo valore unico e manda questo cookie al browser. Tutte le volte successive il server web riceverà questo cookie e quindi potrà collegare tutte le transazioni allo stesso cookie. Il meccanismo funziona perché ovviamente tutte le volte che il browser fa una richiesta manda indietro, oltre alla richiesta, anche il cookie, quindi il server è in grado di collegare tutta questa serie di richieste, tutta questa serie di transazioni allo stesso utente, alla stessa sessione. Normalmente quando un utente si identifica in un'interazione con un server web, l'identità dell'utente viene collegata al cookie specifico, a quel valore specifico che è stato generato precedentemente, quindi tutte le interazioni successive sostanzialmente saranno legate a quel cookie e quindi di conseguenza all'utente. I cookie ovviamente hanno un tempo di scadenza per cui passato quel termine non vengono più inviati al server, per cui normalmente le sessioni hanno un tempo limitato e quello che succede sicuramente sarà nell'esperienza comune che dopo aver lasciato passare un po' di tempo dall'ultima interazione con un'applicazione web, se cerchiamo di proseguire sostanzialmente ci dice che la sessione è scaduta. Ecco, significa esattamente che il cookie è scaduto e quindi non è più possibile collegare assieme tutta questa serie di transazioni e quindi dobbiamo andare a fare un'altra operazione. Un altro elemento fondamentale nell'architettura che abbiamo appena visto è quello che si chiama database server, ovvero un server che ha come obiettivo quello di mantenere un database e di offrire la possibilità ai server applicativi di andare a richiedere informazioni utilizzando un linguaggio standard. Il linguaggio standard utilizzato da buona parte dei server web è l'SQL, che si chiama Strattual Query Language, ed è un linguaggio praticamente universale che è utilizzato per andare a interrogare tutte le basi di dati che utilizzano un modello che si chiama il modello redazionale. Tra i database server più diffusi menzioniamo, andando a vedere i dati più recenti, Oracle, MySQL, Microsoft SQL e Postgresql. Ci sono anche altri server, vi cito MongoDB che è un server che non è un server relazionale, quindi non può essere interrogato utilizzando SQL, ma bensì è un server che permette di andare a memorizzare chiavi e valori e non una struttura fatta a tabelle, come invece è normalmente il caso dei server redazionali e che quindi offrono la possibilità di essere interrogati in modalità usate con il linguaggio SQL. Quindi l'architettura generale a questo punto è quella che vediamo qua. Abbiamo un browser, abbiamo il layout engine con interazione di richieste e risposta e dal lato server abbiamo l'interfaccia principale con cui interagiamo e il server web, il quale riceve i contenuti da un application server, che può essere stato sviluppato con diversi linguaggi e diverse tecnologie, e l'application server normalmente si appoggia su un database server per andare ad accedere ai dati. A questo punto ogni volta che noi interagiamo, se facciamo riferimento a questa struttura, ogni volta che noi interagiamo con un browser, il browser che cosa fa? Manda una richiesta al server che a sua volta risponde. Ovviamente questo tipo di interazione è molto costosa perché abbiamo visto che oltre al tempo di latenza, che può essere di qualche millisecondo ma può anche essere di qualche secondo, se la nostra connessione non è particolarmente veloce o sul server è sovraccarico, ci sono tutti i tempi di viaggio, quindi legati alla trasmissione delle informazioni vere e proprie. Per cui alla pressione di un pulsante o di un link noi dobbiamo aspettare un certo periodo di tempo prima di vedere la risposta. Ovviamente questo ha un effetto negativo sulla usabilità, sull'esperienza dell'utente andando ad utilizzare dei siti che utilizzano semplicemente questo meccanismo di interazione. Per questo motivo sono state sviluppate delle nuove tecnologie che permettono di rendere le pagine web dinamiche, ovvero in grado di interagire direttamente con l'utente senza la necessità di andare a fare una nuova richiesta web al server web e aspettare la risposta. Questo tipo di meccanismi si basano su quello che è una programmazione lato client e permettono di migliorare significativamente quella che è l'interazione con l'applicazione perché la risposta dell'applicazione diventa praticamente immediata o comunque il più delle volte è immediata. Cosa abbiamo necessità di avere per poter sfruttare la programmazione del lato client? Dobbiamo avere un linguaggio di programmazione che sia gestito direttamente dai browser perché non potendo più andare a fare la richiesta al server per ridurre i tempi dobbiamo avere qualche linguaggio di programmazione che sia compreso dal browser e che sia eseguito direttamente all'interno del browser. E ovviamente dentro il browser abbiamo la necessità di un motore di esecuzione che sia in grado di eseguire questo programma. Ovviamente tutti i dati che possono essere utilizzati devono essere noti quindi prima o poi il server web deve averci dato tutti i dati che devono essere elaborati. E ovviamente essendo eseguito all'interno del browser, quindi sulla macchina dell'utente questo tipo di programmi non può avere libero accesso, altrimenti appena ci colleghiamo a un sito web questo ci manda un programma che può fare qualunque cosa sulla nostra macchina. Quindi l'ambiente in cui vengono eseguiti questi programmi lato client di solito è un ambiente molto ristretto con dei limiti significativi. di solito questi programmi vengono eseguiti all'interno di quella che si chiama una sandbox ovvero un involucro che limita le capacità di questo tipo di programmi ad alcune azioni che sono limitate alla pagina. L'architettura in questo caso è quella che vediamo illustrata qua dove oltre a Layout Engine abbiamo il motore di esecuzione che esegue codice JavaScript, il linguaggio universale che viene utilizzato sui browser per poter avere delle pagine dinamiche e il linguaggio JavaScript che sarà oggetto di tutta una serie di lezioni nella parte seguente di questo corso. A questo punto il server web che cosa fa? Ha la possibilità di fornire pagine HTML, fornire altri dati ma il server web contiene anche delle pagine JavaScript che permettono di andare a fornire dei programmi eseguiti sul lato client che quindi sono eseguiti senza ritardo dando una velocità di esecuzione molto maggiore. Come fanno questi programmi a interagire con la pagina web? lo fanno attraverso quello che si chiama un document object model che è uno standard generale a livello web che permette ai programmi scritti in JavaScript di accedere e poter modificare, manipolare il contenuto della pagina andando ad esempio ad aggiungere dei contenuti, a modificarli, nasconderli e mostrarli. Un altro aspetto importante che permette di avere una interazione dinamica e molto veloce è quello di andare a separare il contenuto di una pagina da quelli che sono invece i suoi aspetti grafici, il layout. Qual è l'idea fondamentale? L'idea fondamentale è che io voglio poter avere dei contenuti fissi quindi il contenuto di una pagina nel senso un elenco di prodotti ad esempio è quello e non lo voglio cambiare però voglio poter adattare questi contenuti ad esempio diversi layout a risoluzioni diverse, a caratteristiche diverse oppure voglio andare a rendere il contenuto facilmente modificabile ad esempio ruotando quello che è uno smartphone. la soluzione nel separare i contenuti dal layout è dato da uno standard che si chiama CSS che sta per Cascading Style Sheet che permette di andare a definire quelle che sono le caratteristiche di visualizzazione quindi del layout separatamente da quelli che sono i contenuti ovvero il contenuto della pagina HTML CSS si basa su una serie di dichiarazioni che vengono applicate a dei selettori i selettori normalmente fa riferimento a un elemento della pagina HTML e le dichiarazioni vanno a definire quelle che sono le loro caratteristiche i colori, le dimensioni, la larghezza massima, ecc. tutti questi elementi sostanzialmente vanno a costruire le tecnologie di base per quello che si chiama il web 2.0 il web 2.0 sostanzialmente include tutte queste tecnologie dinamiche e in più permette un'interazione facile degli utenti andando a consentire agli utenti di fornire direttamente i propri contenuti quindi tutti i siti, diciamo così, social si basano su le tecnologie che abbiamo visto e richiedono per forza un'interazione dinamica veloce immaginatevi se quando io devo andare a fare un post su Facebook su Instagram o quale altro social preferite utilizzare io devo attendere diversi secondi dal momento in cui inizio a scrivere al momento in cui il mio sito risponde per cui tutte queste tecnologie sono tecnologie che abilitano un'interazione veloce con il cliente quindi permettono di andare a integrare i contenuti generati dagli utenti direttamente nelle piattaforme e quindi abbiamo quella che si chiama una interazione veloce tra i clienti dove ci sono anche dei pezzi dell'applicazione quindi esistono dei piccoli programmi che fanno parte dell'applicazione generale che permettono di accedere direttamente ai dati questi programmi oltre a essere caricati attraverso un'interazione diretta HTTP possono ovviamente andare direttamente a chiedere al server alcune informazioni in questo caso io evito di ricaricare tutta la pagina con tutti i contenuti ma vado semplicemente a prelevare un pezzo di informazione che quindi sarà molto più piccola impiegherà molto meno tempo a essere trasmessa e potrà essere utilizzata per aggiornare il contenuto della pagina di nuovo immaginate il caso di un sito social io man mano che osservo il sito posso vedere ad esempio notifiche di nuovi messaggi che sono stati messi oppure vedere la mia pagina aggiornata con i nuovi post fatti da altri utenti questo non vuol dire che io devo andare a sottomettere una richiesta a ricaricare una pagina con l'enem con i nuovi post ma semplicemente che un frammento di codice JavaScript che viene eseguito sul browser chiede al server se ci sono nuovi post il server gli manda indietro i nuovi post e questo codice JavaScript va ad aggiornare la mia pagina aggiungendo in cima ragionevolmente i nuovi post che io così posso vedere senza dover ricaricare tutta la pagina che richiederebbe ovviamente di tempi molto molto lunghi queste sono quelle che si chiamano delle single page application ovvero delle applicazioni che stanno in una unica pagina in cui ci sono ovviamente del contenuto HTML che utilizza lo standard la versione 5 di HTML e ci sono una serie di programmi scritti in JavaScript che di solito vengono chiamati web worker che non fanno altro che andare a chiedere a un server web su cui girano delle applicazioni di tipo REST ma poi vediamo di cosa si tratta le informazioni da mostrare quindi il server web manda indietro le informazioni e questi piccoli programmi Java non fanno altro che aggiornare il contenuto della pagina senza dover cambiare pagina l'architettura in questo caso è un'architettura che rispetto a quella precedente ha un canale aggiuntivo tramite una tecnologia che si chiama Ajax che permette agli script scritti in linguaggio JavaScript di accedere a informazioni che permettono di aggiornare il contenuto della pagina senza dover ricaricare completamente la pagina mostrata dal browser la tecnologia si chiama Ajax e sta per Asynchronous JavaScript and XML perché inizialmente era pensata per consentire ai programmi JavaScript di richiedere in maniera assincrona dei contenuti formatati in XML in realtà il formato XML è un formato che ormai è utilizzato sempre di meno in realtà questa tecnologia può essere utilizzata per andare a accedere a contenuti di qualunque tipo in questo momento il formato più diffuso è un formato che si chiama JSON quindi in questo modo io posso andare a fare una richiesta la mia pagina resta lì disponibile quindi non ho un momento di transizione in cui la pagina è bloccata e il server web sta caricando una nuova pagina ho la pagina lì viene fatta una richiesta al server non appena il server risponde la mia pagina viene aggiornata quindi ho un'esperienza molto più fluida di interazione con la pagina web che permette un'interazione molto più avanzata per cui sostanzialmente c'è stata un'evoluzione in termini di tipologie di applicazioni siamo partiti da quello che è il modello classico in cui l'interfaccia utente è data da pagina HTML eventualmente con l'aggiunta di stili fatti in CSS ma sostanzialmente l'interfaccia quindi che cosa viene mostrato è deciso completamente sul lato server che ovviamente può andare a recuperare i dati da un database server l'evoluzione successiva è quella di avere un meccanismo Ajax in cui parte della interazione è decisa sul lato client e quindi ho dei programmi che vanno a recuperare dei pezzi di informazione vanno a recuperare dei frammenti di interfaccia utente e li mostrano il passo successivo è quello in cui sostanzialmente sul lato server non ho nulla se non il database server quindi tutta la parte di logica dell'applicazione è spostata sul lato client l'unica cosa che deve essere fatta è fare richieste dei dati i dati vengono mandati indietro e quindi tutte le decisioni applicative vengono svolte sul lato server quindi è un'evoluzione successiva ovvio che questo tipo di meccanismo può funzionare se ho sul lato client dei dispositivi sufficientemente potenti da poter eseguire tutta la logica applicativa necessaria per gestire completamente l'interfaccia utente ovviamente queste sono le linee principali secondo cui si è evoluto il web e le tecnologie che lo supportano ma sono le tecnologie di base perché se noi andiamo a ragionare in termini di applicazioni complete da costruire ci sono un sacco di aspetti che ovviamente non sono gestiti direttamente tramite queste tecnologie dobbiamo andare a capire come sono fatti i nostri utenti quali sono le loro esigenze quindi come andare a progettare l'interfaccia utente le tecnologie ci aiutano ma non ci danno la risposta siamo noi che dobbiamo farlo dobbiamo scegliere che funzionalità andare a fare dobbiamo andare a gestire una flessibilità delle nostre applicazioni in modo da adattarsi alle esigenze diverse la portabilità che quindi consente di poter utilizzare le nostre applicazioni su dispositivi diversi vi faccio un esempio in questo momento molti di voi avranno a disposizione uno smartphone se io vi chiedessi di andare a scrivere da qualche parte e raccogliessi il tipo di sistema operativo la versione, le dimensioni dello schermo avrei probabilmente decine di diverse varianti ognuna di queste varianti deve poter funzionare correttamente con un'applicazione e quindi io devo andare a gestire la possibilità di far funzionare le mie applicazioni su tutti questi dispositivi diversi ovviamente il mio sistema deve essere il più possibile affidabile quindi devo garantire che ad esempio se ci sono migliaia di utenti che si collegano contemporaneamente il mio sistema continua a funzionare devo gestire la sicurezza quindi devo garantire che soltanto le persone autorizzate possono accedere alle informazioni che a loro competono devo garantire l'integrità dei dati quindi una volta che io ho scritto dei dati sulla mia applicazione quei dati dovrebbero restare lì disponibili non li devo perdere in nessun caso devo poter gestire l'attività di manutenzione quindi devo avere la possibilità ad esempio di mettere offline un pezzo del sito mentre lo modifico o lo evolvo lasciando comunque sempre la possibilità agli utenti di utilizzare magari la versione vecchia e quindi gestire anche poi lo switch tra la versione vecchia e la versione nuova devo garantire le performance e questo lo posso fare utilizzando tecnologie apposite utilizzando tecnologie che vanno a moltiplicare ad esempio i server fisici devo garantire la scalabilità ovvero il fatto che se il mio sistema inizialmente funziona con un numero limitato di utenti e con una quantità limitata di dati facendo crescere il numero di utenti facendo crescere la dimensione di dati il mio sistema continua a funzionare esattamente come prima e ovviamente devo andare a gestire i costi perché sviluppare i sistemi costa e costa tanto perché sostanzialmente chi è che sviluppa questi sistemi? delle persone e le persone devono essere pagate quindi il tempo che io ho che è necessario per andare a sviluppare un sistema è tempo che io devo pagare alle persone che lo sviluppano e quindi oltre al tempo che equivale ai costi devo anche tenere conto dei tempi di sviluppo io non posso prendere 100 persone e fare lavorare contemporaneamente e in un giorno sviluppare tutto perché le interazioni tra le persone richiedono del tempo quindi comunque ho una durata minima dello sviluppo di un'applicazione e poi devo pensare che il mio sistema probabilmente dovrà interagire con altri sistemi che già esistono e eventualmente con il sistema reale il mondo reale che sta fuori di qua ad esempio andando a misurare la posizione dell'utente tramite i dispositivi GPS o con un altro sistema di localizzazione quindi come capite ci sono un sacco di altri aspetti che esulano dalle tecnologie di base di cui abbiamo parlato finora e che è invece necessario tenere presente quando si vanno a sviluppare delle applicazioni web tutto questo a noi in questo momento non interessa diamo per assodato che qualcuno sia in grado di farlo a noi interessa sostanzialmente andare a capire come posso utilizzare queste tecnologie quindi HTML come è fatto HTML come posso scrivere una pagina come posso andare a gestire gli aspetti di stile utilizzando CSS e come posso andare a scrivere del codice JavaScript che venga eseguito sul mio browser e mi permetta di andare a generare del contenuto in particolare visto che questo è un corso di visualizzazione come possiamo utilizzare JavaScript per andare a generare delle visualizzazioni che possono essere viste nel contesto di un'applicazione web quindi i prossimi argomenti che affronteremo saranno sostanzialmente queste tecnologie quindi HTML, CSS e poi JavaScript in tutte le sue declinazioni e complessità